Faccio un po' fatica, ma quando arrivo a tre metri di altezza, compare nel cielo un altro gruppo di persone che volano. Sembrano venire da tempi passati. Qualcuno tiene pergamene scritte, altri piccoli rotoli aperti, istoriati. Sono molto emozionata. Mi sento come se avessi raggiunto un popolo di cui faccio parte. Le mani raccolte sulla bocca, le pose timide pronte a scrosciare di libertà. Gli Eurythmics ad alto volume in macchina di notte, sdraiata sul sedile, attorcigliata tra fratello, fratellastro e sorellastra, a guardare fare illuminati che sfrecciano sulla nostra testa. Mentre un canto fragoroso, un'enfia empatia, sembra essere la causa e l'effetto, conseguenza del mondo intero. L'ampio corridoio di sabbia univa la vegetazione fitta al tempestoso oceano indiano. A incorniciare l'entrata nelle onde travolgenti, c'erano una caverna abitata da centinaia di pipistrelli e un enorme albero degli spiriti. La pianta aveva un'altezza incredibile e solo a metà del tronco terminava l'intreccio complesso di radici che si univano al fusto possente. Di notte il vento si infilava tra i rizomi attorcigliati e faceva risuonare la voce dei morti. Giocammo di più sopra al dirupo, su quella terra secca e polverosa circondata dalla foresta. C'era un bellissimo albero argentato sul bordo del precipizio. I suoi rami senza fogliame sembravano braccia arcuate verso il cielo in cerca d'acqua. Era lievemente inclinato verso la spiaggia e a noi piaceva la vista vertiginosa verso il vuoto. Grazie a tutti.